Venerdì notte, Stati Uniti, Francia e Regno Unito hanno colpito obiettivi militari sul suolo siriano. Questo intervento è la conseguenza dell'utilizzo di armi chimiche da parte del regime di Damasco nei confronti della popolazione civile. Dinanzi alla gravità della situazione, credo sia necessario che il Parlamento già oggi invii un messaggio forte prima del dibattito di domani con l'alto rappresentante Mogherini e del confronto che avremo in mattinata con il Presidente della Repubblica francese Macron. Proprio perché il dibattito all'interno del Parlamento è considerato di grande importanza ieri ho ricevuto una telefonata del primo ministro britannico, la signora May ha tenuto ad informare attraverso di me il Parlamento europeo che l'attacco portato contro le basi in Siria era un attacco mirato a colpire soltanto le armi chimiche e non la popolazione civile obiettivo impedire che si continuassero ad usare queste armi contro la popolazione civile. Il secondo messaggio che mi ha dato e che vi trasmetto è che il Regno Unito intende sulla questione siriana continuare a collaborare con i Paesi della Unione Europea. Poche ore fa si è anche conclusa una riunione dei ministri degli esteri dell'Unione sulla situazione in Siria. Io sono convinto che oggi il Parlamento debba ribadire in maniera forte e chiara che l'uso delle armi chimiche è inaccettabile e che rappresenta una linea rossa oltre la quale nessuno nel mondo può andare. E non possiamo neppure rassegnarci a che la Siria continui ad essere il terreno di scontro tra potenze globali e regionali e organizzazioni terroristiche che perseguono i propri interessi incuranti delle sofferenze gravissime che provocano la popolazione civile inerme. Dal 2011 sono morte oltre 500.000 persone e 12 milioni e mezzo di profughi sono stati costretti ad abbandonare le loro case e tra questi 5 milioni hanno lasciato la Siria. Dobbiamo agire con maggiore determinazione per perseguire la pace e la stabilità nell'area medio orientale e mediterranea rafforzando il dialogo e la diplomazia con il pieno coinvolgimento delle Nazioni Unite ma l'Europa deve giocare un ruolo da protagonista perché l'area del Mediterraneo è l'area dove l'Europa può dire molto per impedire che la violenza di laghi e che possono essere compiuti crimini di guerra e che possono usarsi armi che sono vietate da convenzioni internazionali. Per fare questo è indispensabile una forte unità degli europei e andare in ordine sparso sarebbe un grave errore. La drammaticità della situazione deve fugare ogni dubbio sulla necessità e l'urgenza di costruire una sempre più incisiva politica estera e di difesa comune dell'Unione. La discussione in corso sul prossimo bilancio è un test essenziale sulla nostra volontà di dotarci delle risorse indispensabili per essere veri attori globali ma soprattutto essere portatori nel mondo dei valori attorno ai quali è nata l'Unione Europea.